Si può anche ridere sulla mia storia, è invece una storia molto seria. Mi sono innamorato di un tramvire, fa la linea 24, ogni giorno lo aspetto alla fermata obbligatoria e lui la salta. Ha preso quattro multe, anche il sindaco l'ha voluto conoscere perché salta sempre alle fermate dove sono io. Mi ha sverginato all'età di 35 anni, quel porco, maledetto, lo odio, ma ne sono pazzamente innamorato. L'inizio è stato folgorante, ci unì una partita di bocce, lui buttò il pallino lontano, lui andava a punto e io bocciavo. Lui a punto e io bocciavo, io fui bocciato e lui andava a punto. Ci costruimmo nella periferia di Varese un monolocale di due centimetri. Pagavamo anche poco, 450 mila lire all'ora, ma la vita scorriva tranquilla. Anche un piccolo canarino l'avevamo comprato, un cacca cazzo che non ci faceva dormire mai. Era piccolo ma c'aveva una voce, tutti, 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 sembrava tombachi. Lo mandai alla fiera degli uccelli e mi ritornò con una diarrea, mi fece un po' pena, lo mise a letto e lo curai. Che stupiezze merda! Stando un giorno arrivò un guidatore di Pullman e il mio tramviere scappò con lui. Mi rimasero in tasca quelle 300-400 mila lire giusto per un'altra ora del monolocale e fui sfrattato, indubbiamente, senza ragione. Adesso, che ho 40 anni, guardo i fili del tram e vanno sempre nella stessa direzione. Tramite in un piccolo percorso che è crollato causa neve quest'inverno che faceva molto freddo, ma io, con amore, quando ho visto che non c'era l'alta tensione, l'ho aggiustato e rammendato con le mie manine. Ora lì il tram scorre più veloce perché sa che è un filo d'amore. Quanta guai che ha già passato per un tramvire, mannaggia! Questo sfogo me lo permettete che viene fuori tutto il mio sud, altra che milanese e milanese. Ma la mia vita è morta, mi è ruvinata la vita! Tramvire e merda! Quando ero giovane, ho avuto un freddo con tassista. Tant'è vero che la gente del quartiere, visto i miei trascorsi amorosi e quelli futuri, mi propossero di fare l'assistente del ministro dei trasporti. La trama, cavallo, pullman, non si capiva niente, mi mancava un vigile nella mia vita. Di fatti, ieri mattina, al municipio, mi ho visto uno con un cappello duro, a mo' di casco integrale, nuova moda del sindaco Capatosta, col garofano. Io quasi quasi ci sto, me lo combino. M'ho paura del futuro, sono stato un po' affortunato nella mia vita, non vorrei rincorrere in un altro mezzo, non mio. Ma che mi fa? Sto da pur diavare. E allora, io il vigilo me lo tengo. Speriamo che a fuori di multe ci possiamo mantenere con tre, quattrocento mila lire al giorno e possiamo andare avanti facendoci una famiglia. Oddio, una famiglia, una famiglia è merda, ma una famiglia è sempre una famiglia. O c'è la famiglia, o te c'è una triglia. O c'è la famiglia. Il vigilo me lo tengo.